Alcune tra le più importanti notizie di oggi del Corriere di Sciacca a venerdì 23 novembre sono ufficiali le dimissioni di Marco Campione da presidente dei dirigenti Acque. La società ha comunicato che ieri pomeriggio si è riunito il Consiglio di Amministrazione ed ha accolto le dimissioni di Campione ringraziandolo per l'operato svolto e ha provveduto a nominare presidente protempre l'avvocato Diego Galluzzo fino alla data della prossima assemblea dei soci convocata per il 3 dicembre. Il Consiglio di Amministrazione ha inoltre deliberato di proporre ricorso amministrativo avverso il provvedimento interdittivo della prefettura di Agrigento. Presentato oggi all'ospedale di Sciacca la cosiddetta stanza rosa un percorso di assistenza privilegiato per le donne che subiscono violenza, uno spazio che consentirà l'eventuale loro inserimento in una struttura dedicata nel caso in cui non sarà possibile il ritorno a casa. Gli obiettivi sono stati illustrati nel corso di una conferenza stampa dei vertici dell'aspi di Agrigento, della procura della Repubblica di Sciacca ma anche dell'arma dei carabinieri, della polizia di Stato e del comune di Sciacca hanno sottoscritto un protocollo d'intesa volto a garantire assistenza e protezione a tutte le vittime di violenza che accedono al pronto soccorso. Nell'asposito spazio le donne riceveranno le prime cure sanitarie ma anche sostegno psicologico. 68.750 euro di contributo per il carnevale di Sciacca da parte del Ministero per i beni culturali. Ad annunciare la buona notizia sono stati gli ex assessori Salvatore Monte e Filippo Bellanca. Ambe due hanno rivestito il ruolo di assessore allo spettacolo ed hanno seguito quest'iter che adesso si è concretizzato. Il carnevale di Sciacca rientra tra quelli storici in Italia. Sono in tutto 26. Il progetto ha meritato 75 punti e si è classificato al ventunesimo posto. Prima di Sciacca ci sono Acireale, Misterbianco e Avola. Per partecipare alla contribuzione del Ministero, nel dirsi soddisfatto del finanziamento del Ministero dei beni culturali in favore del carnevale di Sciacca, l'ex sindaco Filippo Bellanca ha anticipato oggi in una nota un importante evento che lui stava programmando e che dovrebbe svolgersi il prossimo anno se l'amministrazione in carica saprà portare avanti i contatti da lui avviati. È un'attività che ho portato avanti di persona, dice Bellanca, con la collaborazione del sindaco di Agrigento Lillo Firetto. È stata avviata un'intesa, posso solo dire che sarà un mega evento di una importante casa di alta moda, afferma Bellanca, un momento che darà alla città di Sciacca notevole visibilità in campo internazionale. La Commissione Consiliare Sanità del Comune di Sciacca ha completato il sopralluogo presso il complesso suolastico Sant'Agostino dove erano stati trovati dei topi e la scuola era rimasta chiusa per tre giorni. La Commissione ha verificato lo stato dei luoghi dove è stata eseguita una seconda attività di dirattizzazione e dialogato con il corpo docente e con il dirigente scolastico. L'iniziativa fa seguito appunto a un momento di preoccupazione di carattere genico-sanitario. La Commissione ritiene si debbano attivare controlli periodici di tutti gli istituti scolastici perché i bambini di scuola moderna ed elementare hanno detto sono molto vulnerabili e possono essere esposti a rischio contagio. È tutto, restate su Corriere di Sciacca.it per le notizie del giorno.